È possibile al giorno d'oggi scegliere ancora un'automobile a metano? Beh, la risposta è... forse. Nel senso che purtroppo i produttori sono limitati, coloro che scelgono ancora di vendere automobili a metano. Ci sono un po' di cose da considerare, torneremo anche su questo argomento, perché ci sono comunque degli aggiornamenti che è importante anche portare alla luce, anche perché rispetto a semplicemente un anno fa, 18 mesi fa, beh, il mercato è cambiato totalmente, con l'arrivo di tante automobili elettriche, almeno comunque anche c'è stato un annuncio delle automobili elettriche, che quindi arriveranno nei prossimi mesi, oppure di automobili ibride. Quindi a questo punto chi è indeciso su quale motorizzazione comprare potrebbe anche chiedersi se vale ancora la pena andare sul gas, magari sul GPL o sul metano, oppure puntare su qualcosa di inedito. Quando si parla di metano, praticamente la totalità dell'offerta nel listino è composta da marchi del gruppo Volkswagen o FCA. E non posso non iniziare questo video se non con la regina delle vendite in Italia, ossia la Fiat Panda, che è disponibile nella versione Natural Power, anche in versione a metano. Ovviamente 70 CV, 300 km di autonomia circa soltanto a metano, per uno stoccaggio complessivo di 13 kg di metano. Questo significa poi, tra l'altro, poter contare su due serbatoi separati, uno al di sotto del piano di carico e uno sotto al telaio, sotto alla scocca, cosa che permette, tra l'altro, di portare via, in termini di bagagliaio, soltanto 25 litri, quindi una perdita minima, contando poi il risparmio che si ha. I punti forti sono il comfort e anche lo spazio interno, a mio avviso, soprattutto considerando le dimensioni esterne, che sono compatte. E poi, chiaramente, anche un listino che potrebbe portare fuori strada subito, perché vedete un'automobile offerta a più di 15.000 euro, per una Panda sembrano magari anche troppi. Però sappiamo che poi nel mercato delle chilometro zero e anche delle pronta consegna si riescono a strappare dei prezzi molto interessanti. Sempre all'interno del segmento delle utilitari metto la Volkswagen Up, un'automobile che è sempre molto compatta nelle dimensioni, ma all'interno ha tanto spazio. E soprattutto, per quel che riguarda la qualità dell'abitacolo, è superiore, secondo me, rispetto a Panda. E anche qui abbiamo a disposizione dei serbatoi che possono ospitare fino a 12 kg di metano, cosa che permette di fare, indicativamente, anche qui 300 km di autonomia complessiva soltanto a metano. Cosa interessante da notare è che quest'auto è monovalente a metano. Per chi non lo sapesse, ne parleremo tra pochissimo dell'aspetto appunto fiscale legato alla monovalenza della vettura a metano. Per chi magari cerca una coupé, ma sempre con risparmio del metano e anche con le emissioni di CO2 molto basse del metano, può sicuramente andare sull'Audio A5. Per me è un'automobile spettacolare in quanto a gran turismo, una vettura che offre tantissimo comfort e anche tante prestazioni in questa versione a metano. Perché? Perché c'è un 2000 turbo benzina con appunto l'addizionale della possibilità di andare a metano e qui abbiamo ben 270 Nm di coppia massima a 1600 giri e ben 170 CV. Quindi tantissime prestazioni, un ottimo livello di comfort oltre che di qualità complessiva dell'abitacolo. Sono 17 kg che possono essere stoccati all'interno delle bombole in composito della vettura e qui abbiamo 400 km di autonomia massima. Per fare spazio alle bombole di metano il quantitativo di benzina è stato ridotto perché a questo punto l'asservatorio è più piccolo. Pensate che arriva a un massimo di 7 litri. Ciò significa che l'Audio A5 è classificata come monovalente. Cosa significa? Che di fatto in tutta Italia c'è uno sconto del 75% sul bollo che può essere tra l'altro anche aumentato fino al 100% per un periodo che può variare a seconda della vostra regione di residenza da un minimo di 3 anni, 5 anni e addirittura a vita per quel che riguarda proprio la vita del veicolo stesso. Tra l'altro parlavamo anche delle bombole in composito che sono utilizzate da Volkswagen su tutta la gamma metano tranne che sull'app e in questo caso l'ispezione è più particolare e se vogliamo anche più costosa poi in termini pratici. Perché? Perché effettivamente chi fa poi l'ispezione che è soltanto visiva ogni 4 anni e poi successivamente ogni 2 quindi intervalli più limitati rispetto ad altre tipologie di bombole in acciaio oppure comunque in metallo in generale beh, chi fa l'ispezione può comunque farlo a livello visivo ma può essere richiesta anche la rimozione della bombola e poi successivamente una ispezione proprio con la bombola staccata dall'auto. Questo come potete immaginare ha un costo un po' per la rimozione delle paratie che vanno a proteggere le bombole e un po' anche proprio per la rimozione stessa delle bombole. Qual è il costo? Indicativamente 200-300 euro questa è la cifra che sono riuscito a trovare tramite una ricerca molto semplice però chiaramente nell'arco di vita complessiva della vettura il costo è più alto rispetto ad altre bombole perché? Perché ovviamente ci sono intervalli di manutenzione più ravvicinati. Sempre all'interno del gruppo Volkswagen abbiamo Seat Leon e Volkswagen Golf due vetture che sono identiche per quel che riguarda le caratteristiche dell'impianto a metano e anche il motore di base che è il 1.5 da 130 cavalli turbo con 200 Nm di coppia massima. In questo caso la quantità di metano stoccabile a bordo è 17,7 kg per quel che riguarda il dato dichiarato per un'autonomia complessiva di 420 km soltanto a metano. Il servato di benzina è piccolissimo 9 litri anche in questo caso quindi è monovalente con gli sconti di cui abbiamo già parlato e poi la vettura viaggia sempre a metano tranne all'accensione in cui comunque viaggia a benzina per poter portare il motore in temperatura. A questo punto però potreste dirmi ma non lo so la Volkswagen Golf è troppo grande anche la Seat Leon voglio qualcosa di più compatto di più piccolo di più pratico allora a questo punto la Volkswagen offre Volkswagen Polo e anche la Seat Ibiza sono gli automobili intorno ai 4 metri anche qui stesso schema a livello di metano quindi di impianto di metano abbiamo il 1.3 cilindri turbo 90 cavalli con una buona spinta ma soprattutto 13,8 kg che si possono trasportare a bordo per quel che riguarda il metano quindi 370 km di autonomia complessiva anche in questo caso le vetture sono classificate come monovalenti e ci sono delle bombole sempre in carbonio in composito quindi come dicevamo prima apposta c'è l'elemento manutenzione che deve essere comunque considerato per quel che riguarda lo spazio a bordo si perdono 100 litri nel bagagliaio da 350 si scende a 250 ma ovviamente non sono finite qua perché ancora troviamo la lancia Y tutte le DR con i loro SUV DR5, EVO la DR6, la DR4 ma ancora i Fiat Cubo i Fiat Doblo tutte le automobili che sono disponibili sul nostro listino potete ovviamente richiedere un preventivo gratuito proprio su drivekey.it ma prima di lasciarvi vi ricordo tra l'altro che qui potete trovare tutti i pro e i contro dell'automobile metano e poi abbiamo provato di recente una delle automobili più vendute in Italia anzi l'automobile più venduta in Italia la Fiat Panda quindi la recensione se vi interessa la potete trovare qua iscrivetevi al nostro canale noi ci vediamo alla prossima sempre qui su The Revkey ciao